Vinta il torneo dell'Onore di Santo Francesco, vorrei fare prima di tutto un ringraziamento alle nostre paoline che ci hanno colorato di un bravo veramente lento. Allora, premiamo per la gara a squadre. Terzo classificato con 133 punti, 20 miglia. Con 136 punti, secondo classificato, Amelia. Al primo posto, con 164 punti, Luca A. Allora, gara individuale in Corniolo. Al terzo posto, Grigli e Leonora. Al secondo posto, Lombardo Leandro di Ventimiglia. Vedi i segretari? Vedi i segretari? Al primo posto. Proiettice a Luca A. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla prossima manifestazione. Ciao, ciao. Grazie. 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 Grazie.